Tra il 1816 e il 1817 lo scrittore francese Stendhal, al secolo Harry Bale, visitò diverse località italiane, tra cui Napoli, ricavandone sotto forma di diario di viaggio il volume Roma, Napoli e Firenze 1817. Capua, 8 febbraio. Chiedo se c'è spettacolo. Alla risposta affermativa mi precipito. Ho fatto bene. Le nozze in campagna, musica piena di brio del freddo Guglielmi, figlio del grande compositore, è stata suonata e cantata con tutto il calore e con tutto lo slancio possibili da tre o quattro poveri diavoli che guadagnano otto franchi per recita. La prima donna, grandonna ben fatta, piccante e disinvolta, recita e canta con assoluta intelligenza. Dimentico tutta la mia collera contro l'avvilimento romano. Torno di nuovo felice. L'eroe del libretto, che è stato pagato al poeta 30 franchi, è un signore innamorato di una delle sue soggette. Qui è proprio la parola adatta. La giovane deve sposare un contadino che parla napoletano. Ogni volta che il signore sta per dichiarare il suo amore, succede qualche pasticcio ed è necessario che egli si nasconda. La gelosia del povero contadino, tenera, vera, disperata, suscita vivo interesse. I dialetti sono tutti più naturali e più commoventi delle lingue scritte. Di questo io non capisco neanche due parole. Due ore di vivo piacere. Faccio conversazione con i miei vicini, ammiratori sfegatati di Napoleone. Dicono che finalmente i giudici cominciavano a non farsi pagare, che finalmente su dieci furti ce n'era almeno uno punito, eccetera, eccetera. L'opera finisce a mezzanotte. A luna ripartiamo. Gli austriaci hanno stabilito posti di guardia ogni quarto di lega e fanno disperare i ladri che muoiono di fame.